Uno sciame di ribellule ha letteralmente colpito Rhode Island, una delle spiagge probabilmente più incantevoli di tutti gli Stati Uniti d'America. Sabbia bianca, dorata, un mare veramente impreziosito, cristallino, ma i residenti l'hanno definita come un osi vera e propria, però uno sciame si è abbattuto su questa località, sui magnanti, negli ombrelloni, il 27 di luglio, l'altro ieri, infatti queste ribellule sono apparse a Rhode Island creando veramente il panico, la paura. Molti hanno chiuso baracche in burattini, sono scappati via raggiungendo le proprie automobili, altri hanno usato giornali e asciugamani per scacciare via gli insetti devastanti. Diciamo che il fenomeno è diventato ovviamente pirale sul web e ha avuto un eco mediatico pazzesco. Grazie a tutti gli utenti di Youtube, il video termina qua, non c'è la buona c'è la buona c'è la buona.